E' stata presentata ufficialmente oggi nelle sale di Parco, galleria d'arte moderna e contemporanea di Pordenone, la mostra Nane Zavagno, la natura e le forme. La rassegna, una delle più ricche dedicate all'artista, offrirà al pubblico l'opportunità di percorrere la sua ricerca pluridecennale tra mosaico, scultura, pittura e disegno. E' una cannellata che va a spaziare 60 anni di lavoro, che va dai primi disegni fino alle ultime cose, però nel vario percorso ho usato diversi e uso diversi materiali. E' chiaro che ogni materiale determina un risultato, perché se io uso la pietra quella si lavora e si plasma in una certa maniera, se uso un materiale plasmabile ho altre possibilità. La città di Pordenone, da sempre attenta al lavoro dell'artista e proprietaria di alcuni dei suoi capolavori, vuole con questa mostra rendere omaggio all'intera carriera di Nane Zavagno. Siamo particolarmente lieti di fornire questo omaggio al maestro Zavagno, che va a completare un po' l'opera di omaggio ai grandi artisti del nostro territorio dopo la mostra fotografica di Zanier. Altra cosa positiva è il coinvolgimento di tutta la città, perché la mostra avrà tre sedi espositive, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Armando Pizzinato, la Galleria Sagittaria, poi avrà la Banca Popolare Friuladria, la sede centrale della Banca Popolare Friuladria in piazza 20 Settembre. Questa coniugazione tra pubblico e privato e questo rapporto fra enti di carattere diverso è motivo per noi di grande soddisfazione, perché crea finalmente quel sistema e quelle relazioni tra organizzazioni aziendali e enti culturali della città che credo servano a dare dimostrazione di grande compattezza di Pordenone nei confronti di tutto il territorio, ma anche fornire risposte positive e immediate a una situazione non certo facile comunque la odierna. Appuntamento a Parco sabato 15 alle ore 18 per l'inaugurazione ufficiale. L'esposizione a ingresso gratuito potrà essere visitata fino al 30 dicembre 2012.